Questo che vedete è un fetoscopio. Serve durante le gravidanze per interventi sulla placenta nella vita intrauterina. Si tratta però di uno strumento di alta tecnologia utile alla gestazione gemellare monocorali, complicate da sindrome da trasfusione fetofetale, una complicanza che può portare al danno neurologico del feto o persino alla morte. In alcune di queste in cui c'è una trasfusione, un passaggio di sangue da un fetonato e quindi con la morte nell'80% dei casi di uno o di tutti e due o comunque con malformazioni. Con il fetoscopio che l'associazione Femina ha donato all'ospedale di Careggi si può intervenire sulla placenta per separare la circolazione sanguigna dei due feti e consentire la prosecuzione della gravidanza. Ci rimette in pari con i pochi centri italiani che ne hanno già, stanno utilizzando questa metodica. Ce ne sono pochissimi al nord, al centro Italia nessuno, al sud forse uno. L'intervento in utero, pur essendo rischioso, permette la sopravvivenza di almeno un gemello in quasi l'80% dei casi. Io ringrazio il professor Scarselli e la sua fondazione per la donazione di questo strumento perché primo conferma il ruolo di Careggi come centro regionale di terzo livello e poi ci consente di svolgere un ruolo nazionale perché dopo Milano poi ci siamo noi e quindi intendiamo svolgere il nostro ruolo fino in fondo.